Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo di decreto sostegni e contributo a fondo perduto. Vediamo come fare a richiederlo e chi può richiederlo. Per sostenere le attività colpite dall'emergenza sanitaria Covid-19, il decreto sostegni ha previsto un contributo a fondo perduto per diverse tipologie di attività. In questo video andiamo a vedere a chi aspetta e come andare a richiederlo. Ma prima di fare questo vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto a questo video per supportarmi e farmi crescere col canale. Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a creare sempre ogni giorno nuovi contenuti. Inoltre iscrivetevi cliccando sulla campanella qua sotto per non perdere tutte le notifiche ai prossimi video che andiamo a pubblicare su Recensioni per Scegliere. E qua sotto in descrizione trovate il link alla pagina su cui si può fare richiesta per il contributo a fondo perduto. E trovate anche il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora entriamo subito nel vivo della questione e vediamo a chi aspetta questo contributo a fondo perduto. Questo contributo aspetta le attività che hanno un fatturato medio mensile del 2020 inferiore del 30% a quello del 2019. Per effettuare il calcolo del fatturato medio mensile dovremo prendere il fatturato del 2019 e dividerlo per 12 mensilità. O dividerlo per il numero di mensilità in cui la partita IVA nel 2019 è stata aperta. Quindi ad esempio se abbiamo aperto la nostra attività nel 2019 a metà anno divideremo il nostro fatturato 2019 diviso 6. Se invece la nostra partita IVA è stata attiva per tutto il 2019 prenderemo il numero del nostro fatturato e lo divideremo per 12. La stessa cosa lo faremo con il dato del fatturato del 2020 quindi diviso 12. E in questo modo potremo calcolare il fatturato medio mensile del 2019 e del 2020. Inoltre aspetta anche a tutti i soggetti che hanno aperto partita IVA dal 1 gennaio 2019. Questo contributo invece non aspetta a tutte le attività che hanno aperto partita IVA dal 23 marzo 2021 in avanti. Che hanno cessato l'attività dal 23 marzo 2021 in avanti agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione. Il contributo minimo per le persone fisiche è di 1000 euro mentre invece è di 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Mentre non può essere superiore ai 150.000 euro. È possibile richiedere questo contributo a partire da oggi 30 marzo 2021 fino al 28 marzo 2021. Nel momento in cui andiamo a effettuare la nostra richiesta, finché questa richiesta non viene accettata dall'agenzia delle entrate e dopo vedremo come verificarlo, sarà possibile presentare delle nuove richieste fino al 28 maggio 2021 che andranno a sostituire la richiesta precedente. Quindi l'ultima richiesta inviata è quella che avrà la valenza rispetto a quelle precedenti. Vediamo quindi come effettuare la presentazione della domanda. È possibile effettuarla in due modi. Il primo modo tramite il destro telematico da un intermediario finanziario. Il secondo modo, che è quello che utilizzeremo noi in questo video, tramite il sito web dell'agenzia delle entrate. Infatti, una volta effettuato l'accesso all'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate, entreremo nella sezione fatture corrispettivi. Ma qua sotto vi lascio il link per un accesso diretto. Quindi ci spostiamo sul computer, vediamo insieme come effettuare la procedura passo passo e come richiedere il contributo a fondo perduto. Quindi cliccando sul link presente qua sotto in descrizione raggiungiamo questa pagina e facciamo clic sul link portale fatture e corrispettivi. In questa schermata possiamo effettuare l'accesso con il codice fiscale, con lo SPID, carta di identità elettronico o carta nazionale dei servizi. Noi utilizziamo lo SPID. Selezioniamo lo SPID di nostra appartenenza ed effettuiamo l'accesso all'area riservata. Quindi dal box contributo decreto sostegni, clicchiamo sul link predisponi l'istanza per il contributo e accediamo alla pagina successiva. Accettiamo questa informativa e qui andremo a inserire i nostri dati. Possiamo scegliere quindi se ricevere l'importo su conto corrente o su credito d'imposta, inseriamo il nostro IBAN e facciamo acquisici dati. Qui andiamo a selezionare che non siamo soggetti diversi da quelli di cui è il comma 2 articolo, cioè quelli che non hanno diritto. Selezioniamo la nostra fascia di ricavi complessivi anno 2019 e inseriamo i nostri dati di fatturato medio mensile 2019 e fatturato medio mensile 2020. Quindi facciamo acquisisci dati, qui vediamo un riepilogo di tutti i dati che abbiamo inserito, facciamo una firma sulla sottoscrizione e facciamo l'invio dell'istanza. Poi sempre dall'area riservata possiamo andare in consulta esito, clicchiamo su decreto sostegno e qui vedremo poi l'esito della nostra domanda che abbiamo effettuato. Dalla voce invii effettuati invece possiamo vedere l'invio che abbiamo appena effettuato. A seguito della presentazione della domanda viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della richiesta. L'agenzia delle entrate effettuerà dei controlli appunto sui dati che abbiamo inserito e se riterrà valida la nostra pratica ci invierà una seconda ricevuta che ci confermerà l'esito positivo o negativo della nostra richiesta. Se l'esito è positivo a quel punto verrà effettuato il pagamento con le modalità che abbiamo scelto durante la compilazione. Infatti è possibile scegliere tra due modalità di erogazione di questo bonus a fondo perduto cioè tramite bonifico bancario e quindi a credito diretto sul nostro conto corrente conto corrente che deve essere intestato all'intestatario dell'azienda che fa richiesta del contributo a fondo perduto o volendo sarà possibile andarla a richiedere tramite credito d'imposta utilizzabile poi in compensazione tramite F24. Come al solito se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto cerco sempre di rispondere a tutti mettete un mi piace o non mi piace sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensate di questi tutorial iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per questo video con il contributo a fondo perduto è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da ricco ciao 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 ciao